Amici di Twitch, buonasera a tutti, mi dispiace perché avete dovuto sentire la tosse di spanchi durante il... Non è vero, l'ho fatto prima, adesso tre... No, l'hanno sentito. L'hanno sentito, buonasera, ciao, come state? Vi vedo bellissimi come al solito, carichissimi per il nostro episodio di Live Talks numero 287. Grazie, per chi non lo sapesse, ripetiamo che il nostro format che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop, quindi parliamo di recitazione, doppiaggio, gaming, creazione di contenuti, musica, sceneggiatura, scrittura, UFX, fumetto, tante belle cose. Mille, 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 mille. E questa sera siamo molto, molto felici di avere con noi un'eccellenza assoluta che è Elisabetta Spinelli. Grazie per aver accettato il nostro invito Elisabetta, siamo felicissimi, come stai? Grazie, io sto benissimo, grazie a voi per questo invito, sono emozionata perché io sono un po' timida, sono abituata a stare al buio sul mio leggio nella sala di doppiaggio, non sono molto abituata a esprimermi così davanti a un grosso pubblico, però ecco, è emozionante sapere che c'è tanta gente che può ascoltare e essere tra voi. Grazie mille, so che fate delle cose meravigliose, che avete intervistato tantissime persone, quindi che onore essere in mezzo a queste persone che voi avete deciso di invitare. Ma che bello! Grazie, l'onore è tutto nostro che sei qui! Assolutamente, non vediamo l'ora di iniziare con la nostra chiacchierata, però prima di farlo ovviamente sbrighiamo quelle formalità che poi ci consentiranno di andare proprio lisci verso la nostra... E soprattutto di non prendere insulti a posteriori. Giusto. Ecco, no, gli insulti non ci piacciono, no? Non ci piace. La nostra community... Quindi andiamo a salutare i nostri, innanzitutto a proposito di insulti, la nostra polizia del canale, i moderatori, Jackie Jack e Fanpage, perché loro dovete essere carini e coccolosi in chat, dire quello che vi pare, anche andare contro quello che pensiamo, però farlo con educazione e maniera. Quindi, altrimenti ci sono loro che prima vi sospendono e poi vi bannano. Poi abbiamo i nostri VIPs, Simona e Mr. Lannister, un saluto anche a tutti gli altri che ci guardano. Ricordiamo che questi sono gli ultimi 17 giorni di live e di Twitch e di remoto digitale, perché poi, come avete visto dalle mie storie Instagram, che vi consiglio di seguire fino a fine maggio, passeremo a uno studio fisico, passeremo alle registrazioni, passeremo a un nuovo modo di fruire dei contenuti e passeremo a un'altra piattaforma proprio, che è YouTube e Spotify. Quindi potrete guardarci da una parte o, se volete solo sentirci, non avete scuse, perché anche se state in macchina, correndo, facendo jogging, potrete, grazie a Spotify. Se non volete vedere Andrea, potete fare solamente. Esatto, lo sentite e basta, insomma. Però vi consiglio di vederlo, perché no, insomma, Spanchi non vedetela, perché alla sua veneranda età non è più un bel vedere. Ma è vero, è un fiore. Non l'è mai stata, diciamo la verità. Poi, i comandi chat li trovate nel titolo, non li ricordiamo, la cosa importante, però è punto esclamativo ospite, così se volete seguire Isabetta, e vi consigliamo di farlo senza stalkerarla, potrete andare sul suo profilo Instagram e mettere un bel follow. Assolutamente. Follow, guarda. Follow. Ok. Allora, Axor, le live non si faranno, a meno che di eccezioni. Certo, se viene un cliente, ci dice, io c'è un evento, voglio assolutamente la live, vediamo, 10.000 euro la live si fa, però, di norma, di norma non ci saranno più dirette, a meno che, ripeto, casi particolari, ci prendiamo la facoltà di riservarci quel... E uno stravolgimento editoriale. Esatto, certo, l'ho fatto qualche giorno fa, fantastico, Axor ha già messo il follow, bravissimo, bravissimo. Bravo. Allora, io, Elisabetta, ti andrei a porre la prima domanda, che è l'unica che abbiamo preparata, perché è uguale per tutti, poi il resto vedremo dove ci porta la conversazione, e porta con sé un piccolissimo preambolo che è inutile, lo dico subito, però piace la chat, quindi te lo faccio ugualmente. Ed è questo, noi la mattina, no, ci alziamo dal letto, felice o meno, ci laviamo i denti, insomma, usciamo di casa e incontriamo numero X di persone, che possono essere 10. Vedi, spanchi. Quella là, X hai detto al numero romano, era già un indizio. Esatto, brava, brava, non c'è mai pensato a questa cosa. Però, in base a come ci poniamo con loro, magari con qualcuno scontroso, antipatico, simpatico, queste 10 persone avranno 10 immagini diverse di come noi siamo. Però, dal nostro punto di vista, è molto interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti andrei a chiedere, chi è Elisabetta, dal punto di vista di Elisabetta stessa, per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni e hobby, che esulano completamente o no? Quello che è la tua carriera professionale. Uh, che domanda difficile. Non è il preambolo, però... Sì, sì, è solo per darci un dono iniziale. È un po' facco, credo, ti impatta. Allora, vabbè, diciamo che la mia vita personale è molto interconnessa con la mia vita professionale, per cui appena apro gli occhi al mattino cerco di fare un check mentale per ricordarmi tutto quello che devo fare. Quindi, non ho molto spazio per quella che sono io nella vita di fuori del lavoro, sono molto attaccata ai miei impegni proprio lavorativi, che sono sia strettamente lavorativi e riguardano le convocazioni di doppiaggio, di spicheraggio pubblicitario o di lezioni in accademia, oppure ho tanto da fare, soprattutto negli ultimi due anni, per quello che riguarda un lavoro associativo che mi sono presa, perché da un paio d'anni sono diventata presidente dell'Associazione Nazionale Attori e Doppiatori per la Pubblicità e da quando c'è l'intelligenza artificiale devo dire che ci sono tante cose a cui pensare, persone da vedere, cose da escogitare per cercare di capire che cosa sta succedendo nel nostro lavoro ma poi nella vita di ognuno di noi. E quindi, ecco, la risposta è un po' quella. Diciamo che la cosa che mi aggancia molto alla vita non lavorativa è il mio cane. Ho una cagnolina che tra l'altro in questi giorni è stata malissimo, per cui ho una sofferenza infinita, ma oggi finalmente si è un pochino ripresa e lei mi dà questo contatto con la realtà, portarla fuori, darle il suo spazio, stare con lei è bellissimo perché non servono le parole e sento tutto quello che mi passa per la testa, che mi passa nel cuore. Devo dire che è molto piacevole perché riesce a connettermi alla realtà, a farmi ricordare tutto quello che devo fare e a darmi un senso di calma nell'affrontare le cose. Poi i miei figli, ma ormai sono grandi, quindi non hanno più bisogno della mamma, però penso sempre a loro, quello che fanno, li chiamo, li cerco di capire se stanno facendo tutte le loro cose per bene e quindi è difficile rispondere, chi sono io dal mio punto di vista? No, però ci hai dato diversi spunti, tra l'altro siamo felicissimi anche noi che il tuo animaletto a quattro zampe stia meglio perché noi siamo tutti amanti, io ho uno scibaino, spanchi a un gatto che però vorrebbe solo evadere perché odia stare dentro la casa. Ma non è vero, è impossibile. No, noi lo sentiamo. Alcali perdono. Cioè si capisce però che dice aiutatemi, aiutatemi. Aiuto. Ha cercato di scappare, ma gli ha messo anche la rifinzione fuori dal balcone in modo tale, tipo una prigione è diventata. Ma l'altra volta è entrato in inquadratura con la scritta aiuto sul pelo, cioè nel senso tutte cose. Non è vero Elisabetto. Quindi siamo molto felici che stia bene. Ma ci hai parlato di quanto poi il tuo lavoro sia immersivo, no? Perché hai tanti impegni tra i turni, adesso il ruolo nell'associazione da presidente, i corsi. Quindi ti sei mai sentita come se questo ti avesse in un certo senso tolto delle opportunità? Anche solo l'opportunità di dedicarti a una passione esterna completamente differente, no? Da quello che può essere il tuo lavoro, non so, il giardinaggio, il bricolage. Sì. Oppure no? Allora, in un certo senso sì, a volte questa sensazione l'ho provata di essere proprio un po' assorbita da tutte le cose che dovevano essere fatte, tutti gli impegni a cui devo prestare fede. E quindi ho tralasciato delle passioni che ho profonde, che in realtà ho ancora, e che non ho potuto esplorare e vivere come avrei voluto. Perché poi quando cominci una strada, intraprendi un cammino, cerchi di farlo al meglio, insomma, se ti stacchi è difficile, poi il nostro ambiente è un pochino complicato, è difficile staccarsi per un po' e poi ricominciare. Devi un po' esserci, altrimenti è facile che ti, non dico che ti dimentichi, no? Però che... Taglia notta fuori. Che tu fai un po' il tuo spazio, il tuo posto in questo mondo che è fatto di un'organizzazione meticolosa, perché ovviamente ci sono i tempi di consegna delle serie e se tu non ci sei, il lavoro non si può fare. E se cominci a non esserci per una produzione, poi cominci a essere poco affidabile per i datori di lavoro. Quando io ho cominciato a fare questo lavoro, facevo anche teatro contemporaneamente ed era la mia grande passione. Io avrei voluto vivere soltanto di quello, però non era possibile. E mi ricordo che quando ho vinto il primo provino per fare un ruolo nell'assopopera Sentieri, non so se voi siete giovani, se ve la ricordate o se ne avete sentito parlare, la prima domanda dopo aver vinto il provino che mi hanno fatto è ma stai partendo, devi andare in tournée perché questo personaggio c'è e tutte le settimane dobbiamo piazzarti dei turni. E quindi lì ho capito che comunque mi costringevano a scegliere. Ovviamente i turni di doppiaggio sono più remunerativi rispetto ai lavori teatrali, soprattutto quando sei all'inizio della carriera, bisognava pagare l'affitto, avevo tutte le spese, i miei genitori non erano molto felici che facessi questo mestiere, quindi non mi hanno per niente aiutata. Io non faccio così con i miei figli ma comunque loro hanno fatto la loro scelta e dovevo dimostrare di essere totalmente autonoma e autosufficiente. E quindi è stata un po' una, non dico una gabbia perché sarebbe un termine eccessivo, ma una via che effettivamente mi ha impedito di fare delle scelte diverse. Poi una cosa che mi piacerebbe tantissimo, che ho sempre lasciato un po' lì, è la scrittura, mi piacerebbe tanto scrivere, però anche per scrivere devi avere tempo, non devi avere troppi impegni, ma chi lo sa, vedremo. Chiaro, chiaro, la scrittura è interessante, vero Andrea? No, ma a parte che è molto interessante anche perché una persona, cioè almeno dall'impressione che dai, essendo una persona che riesce ad avere un quadro visivo abbastanza delineato, cioè abbastanza preciso, sarebbe interessante anche andare a capire dove potrebbe andare la fantasia della scrittura. Ma io volevo collegarmi un attimo alla domanda appunto che ti aveva fatto Mauro per un'altra questione, cioè oggi tantissimi, soprattutto giovani, si avvicinano al mondo del doppiaggio e c'è un po' il mito del doppiaggio. Quasi ci si è dimenticati che si parla comunque di un settore che comunque in Italia rappresenta un'eccellenza, quindi che è fatto di tanti sacrifici, di tanto studio, di tanta fatica in un certo senso per arrivare ad alti livelli come te. Quindi volevo chiederti se ad oggi senti che quello che hai dovuto sacrificare per raggiungere questo punto è stato un po' bilanciato da quello che hai ricevuto da questo lavoro. Cioè se alla fine la bilancia si tiene o se una delle tue parti secondo te è più sbilanciata, cioè se hai dovuto sacrificare più di quello che hai ottenuto o se invece attraverso anche i fan, non lo so, le fiere e quant'altro, hai ricevuto molto più affetto di quello che magari ti aspettavi quando eri in sala. Sì, assolutamente questo. Io ho ricevuto tantissimo da questo lavoro inaspettatamente e ancora adesso mi stupisco di come le persone mi riconoscano, mi abbiano apprezzato l'interpretazione che ho dato a dei, soprattutto personaggi degli anime giapponesi, che sono i personaggi che ti consentono di più di dare qualcosa di tuo perché doppiando un anime dai un po' l'anima al disegno, al personaggio. Viceversa se doppi un'attrice, l'attrice ha già la sua personalità, le sue caratteristiche, ha creato già qualcosa e devi avere soltanto l'umiltà e la delicatezza di non andare oltre quello che ha fatto l'attrice. Con un disegno animato è diverso, quindi puoi fare qualcosa di più, puoi spingerti un po' oltre e sentire tanti commenti, tanti apprezzamenti mi ha veramente sconcertata. A un certo punto ci sono stati dei momenti in cui io ho lavorato veramente tanto e ero come un po' non dico in difficoltà perché mi arrivava, ho avuto la fortuna di avere una protagonista dopo l'altra e quindi mi sentivo anche, avevo paura di fare delle cose non troppo accuratamente che è una cosa che va un po' contro la mia natura e invece avere il riconoscimento da parte delle persone che poi hanno visto quei prodotti mi ha restituiti mi ha restituito qualcosa di importante perché mi arrivano dei racconti di persone ma guarda grazie per quella puntata dove tu facevi quel personaggio, hai detto questa frase in quel modo, io mi sono scritto la frase mi ha consolato, mi ha aiutato, io ho veramente commovente, da brivido a volte e questo è davvero inaspettato e sono veramente grata anche per il coraggio che le persone hanno avuto di dirmele queste cose perché mi sono sentita utile in un certo senso e questo mi ha fatto proprio bene al cuore ecco sì, il mio lavoro mi ha restituito tanto, non pensavo, non pensavo davvero così sono anche stata fortunata perché ho fatto dei personaggi che sono diventati iconici sia sugli anime sia personaggi di serie televisive che hanno fatto la storia delle serie tv quindi non capita a tutti e quindi anche questo sono grata per le cose che ho fatto mi è piaciuto insomma tutte meritatissime e guadagnate sicuramente ma meritate, guadagnate è andata così sì, io sono una persona piuttosto schiva, umile, faccio le cose con molta dedizione per cui sono contenta ed è stato faticoso perché adesso i giovani che cominciano hanno tante difficoltà ma magari non hanno dei direttori di doppiaggio come ho avuto io che erano molto severi, molto esigenti adesso si corre un pochino di più purtroppo sul lavoro e a discapito forse di una certa qualità della comunicazione l'importante è che sia tutto pulito, sia tutto perfetto, sia sulla forma d'onda ci sono tutte le nuove richieste dalle varie piattaforme che sono un po' contro la logica del doppiaggio come dovrebbe essere invece io ho lavorato con persone che hanno preteso il massimo e questa è anche stata una fortuna perché mi ha spinta a cercare sempre qualcosa di più, di più, di più guarda questa cosa è verissima perché io se dovessi tornare indietro e pensare gli insegnamenti più grandi da chi li ha avuti in vari ambiti sono state sempre da quelle persone molto severe in un certo senso ma che riuscivano a tirar fuori in te qualcosa che può essere un allenatore a calcio quello che fai un tiro sbagliato e invece di dirti dove hai sbagliato ti manda il pallone dall'altra parte del campo e ti dice ogni tiro che fai sbagliato te lo vai a prendere a 100 metri di distanza ho fatto un esempio, però quello ti impara, ti forma, ti fa capire anche dove sbagli e come sbagli invece dimmi se secondo te è un'affermazione corretta o meno di recente si tende a puntare più su un diverso tipo di insegnamento che io non dico che sia giusto o sbagliato però secondo me un minimo di non farti trovare la strada spianata ma fartela fatica per ottenere quell'obiettivo ci vuole invece adesso stiamo nella controtendenza ossia cerco di farti capire con le buone il che secondo me è bellissimo però bisogna bilanciare trovare quel bilanciamento tra essere duri e in determinati momenti essere comprensivi magari in altri non trovi Elisabetta? sì sì ma sono assolutamente d'accordo è importante che chi sta dall'altra parte del vetro parlando della sala di registrazione sia molto esigente perché avendo un attore da dirigere deve tirare fuori il meglio possibile invece essere più come dici tu non dico superficiali però più attenti a delle cose più immediate meno profonde che riguardano meno la sfera emotiva perché c'è proprio questa attenzione alla forma d'onda questa attenzione a non fare niente di troppo diverso tecnicismi che rovinano un po' l'emozione che tolgono la spontaneità e che ti tolgono il desiderio di andare in fondo a certe emozioni con cui noi lavoriamo sempre per forza altrimenti non c'è nessuna frase che noi pronunciamo senza che sia collegata a un pensiero, a un'emozione e quanta concentrazione ci vuole, quanta fatica quanto lavoro c'è per tirare fuori anche in una banale frase qualcosa di più e alla fine dei turni se hai lavorato in un certo modo esci dalla sala che sei stanchissimo e poi dici ma io cosa ho fatto? ho fatto solo un personaggino così però aspetta, cosa faceva questo personaggio? di tutto o di più, no? e come l'hai vissuto? se l'hai vissuto emotivamente collegata ti sei stancata perché le emozioni sono faticose è vero ma poi c'è appunto questo discorso che come dicevi aumentano i prodotti da doppiare diminuisce il tempo di lavorazione quindi sostanzialmente si va sempre di corsa cioè è una corsa contro il tempo infinita che magari anche rispetto a un tempo ti dà meno possibilità di ragionare sulle radici, no? perché spesso quando tu a una persona vai a dare un'istruzione che è semplicemente per far bene questo lavoro che stai facendo adesso ma senza farla entrare veramente nell'essenza di quello che fa è una soluzione che funziona adesso ma a lungo andare non pagherà cioè nel senso se io ho un nuovo doppiatore una nuova voce che magari non è pronto per fare quello che sta facendo quindi avrebbe bisogno di non comprensione però un'istruzione sul campo, no? in inglese insomma internazionalizzando direbbero un training on the job cioè tu vieni in sala fai l'errore io ti correggo e ti faccio capire perché è sbagliato magari oggi questo tempo non c'è più ma si rischia di creare delle persone che, bravi soldati cioè che fanno il lavoretto quando entrano in sala ma che poi tendono magari a non mettere l'anima in quello che fanno ed è da fruitore la vera differenza almeno a primo impatto tra un doppiaggio che ti prende e un doppiaggio di cui non ti rimane nulla sostanzialmente eh sì purtroppo purtroppo è così e quando mi capita di di fare delle direzioni io lavoro come ho imparato a lavorare io per cui coi ragazzi più giovani che cominciano cerco proprio di di tirare fuori il meglio che hanno perché a volte mi capita che qualcuno già molto bravo che sta già facendo tanti protagonisti per cui è già avanti nella carriera però rimanga un po' così mi dica ah ma grazie che bello lavorare così eh così dovrebbe essere certo perché almeno si scoprono sempre nuovi evolvono tra virgolette quando hai una tecnica che funziona tutto sommato entri in sala e metti il pilota automatico esatto vai no però si sente no come hai detto tu prima si sente che che manca qualcosa che non ti resta che non ti fa vibrare che vabbè adesso vi racconterò eh di aneddoti in cui ho lavorato tanto in passato con Simone D'Andrea che ovviamente conosciamo tutti che conoscete tutti è una persona straordinaria è un doppiatore meraviglioso non si può neanche dire tutto quello che ha fatto però spesso abbiamo fatto i protagonisti insieme io e lui anni fa quando si stava leggio insieme eh perché adesso è molto difficile anche questo si doppia uno per volta e vabbè insomma quando lavoravamo insieme non non ci staccavamo dalla dall'anello finché tutte e due non avevamo i brividi no no aspetta aspetta la rifacciamo e certe volte facevamo anche arrabbiare il direttore del doppiaggio perché dice adesso basta andiamo avanti eh ci credo se l'ho avuta ancora la rifacciamo beh cavolo questo dimostra quanto professionisti siate perché non è da tutti di solito uno potrebbe pensare no no buona ok meno male mi sbrigo me ne vado invece no cioè rimaniamo là finché non sentiamo di avere i brividi di aver fatto il meglio che potevamo fare in quella determinata scena con quel determinato eh sì quando ti capitano quelle scene dove proprio ci devi mettere quella cosa in più non te le puoi lasciar scappare chiaro e sentendo professionisti così mi viene in mente perché spanchi in questo mestiere non potrà mai spandare ma come ti permetti come ti permetti diciamola tutta cioè pressappochismo uguale spanchi non è vero assolutamente ti cambi nome in pressappochista per favore come dici cambi metti pressappochista no no non metto pressappochista tu metti non posso perché poi mi bannano se metto quelle non è nel nostro schieno mettere le parolacce però pressappochista vuoi fare una bella domanda Elisabetta? sì grazie mille grazie infinite allora Elisabetta io mi chiedo e mi domando ti piace viaggiare hai viaggiato nella tua vita se sì c'è un viaggio in particolare che ti è rimasto nel cuore se no perché non viaggi facci sapere grazie allora a dire la verità no non ho viaggiato tanto il viaggio più bello che ho fatto l'ho fatto quando ero molto giovane dopo la maturità per cui stiamo parlando veramente di tantissimi anni fa e sono stata un mese a New York non ho viaggiato chissà dove però era una città che mi attirava tantissimo ecco i miei genitori che mi hanno ostacolato sulla sulla carriera però devo dire che mi hanno fatto questo regalo per la maturità ed è stato particolare sì sono stata quasi sempre a New York ospite di una famiglia di una persona che conoscevamo per cui sono riuscita a vedere la città proprio come come deve essere vista ecco quello è stato un mese un'esperienza bellissima perché sono andata a teatro sono andata nei locali dove si faceva musica dal vivo ho vissuto le discoteche anche le serate cioè non dormivo mai praticamente poi ho avuto anche la fortuna di essere ospitata da delle persone molto benestanti che avevano questa villa di fianco ai proprietari della Pepsi della Pepsi per cui figuriamoci wow e quindi ho fatto delle esperienze molto particolari quello è stato un viaggio incredibile poi vabbè sono andata a Parigi un po' di volte ma per ragioni sia di lavoro sia familiari ho viaggiato poco anche questa è una cosa che devo mettere in agenda allora lo devi aggiungere sì sì lo devo aggiungere però intanto un mese a New York un mese a New York la vacanza più bella l'esperienza più incredibile ho conosciuto persone speciali proprio mi sono trovata con persone di colore e ho frequentato tutti i luoghi che frequentavano loro per cui mi guardavano come se fossi una mosca bianca a volte ho avuto anche un po' paura perché c'è c'è un po' razzismo al contrario ma è stato bellissimo è stato molto interessante è interessante emozionante affascinante New York è una città particolare è piena di vita è piena di contraddizioni mi aveva fatto adesso si vedono anche a Milano e ovunque credo ma mi ricordo che mi aveva fatto tantissima impressione vedere più di una persona intorno ai bidoni della spazzatura che scavavano per trovare i resti della gente che comprava il cibo e poi lo puttava via presa dai fast food o insomma da ristoranti di questi un po' street veloci e questo era scioccante perché noi in Italia non ce l'avevamo ancora questo fenomeno ora si vede esci per le strade c'è la gente che dorme per terra non era così in quegli anni e l'America invece da quel punto di vista mi aveva proprio fatto effetto mi aveva scioccato è vero è vero io mi ricordo quando sono andato a San Francisco che lì è ancora più marcato poi questo fenomeno che ce ne sono tantissimi veramente tanti in quelle condizioni e per loro è normale cioè si vede che sembra la normalità però a noi che venivamo da un'altra cultura un altro tipo ciao ciao io mi ricordo che mi fece molto molto effetto come cosa ma Elisabetta senti prima hai accennato un attimo il discorso di quanto attualmente tu abbia da fare in quanto presidente con tutto il discorso dell'intelligenza artificiale no? che poi l'intelligenza artificiale sta prendendo piede in tanti settori dell'arte è iniziata io mi ricordo forse due tre anni fa quando intervistammo i primi i tuoi colleghi che tutti la presero un po' sotto gamba del senso è stanno ancora tanto è macchinosa non può replicare l'emozione arrivando poi piano piano a cambiare in un certo senso questa idea e attualmente sono tutti d'accordo che abbia fatto dei passi da giganti che in futuro potrebbe essere una una reale alternativa no? a quello che è il doppiaggio dal vivo ecco secondo te conoscendo essendo proprio presidente dell'associazione e conoscendo immagino questo fenomeno più nel dettaglio di quanto possiamo conoscerlo noi quale può essere la soluzione ottimale per il futuro calcolando che l'intelligenza artificiale progredirà e arriverà a dei livelli mostruosi no? quindi quale può essere secondo te il giusto compromesso per per andare per essere un po' tutti soddisfatti allora è difficile dare una risposta ci provo dico un po' com'è la mia visione come come la sto prendendo io come sto cercando di impostare anche il lavoro dell'associazione rispetto a questo fenomeno nel quale siamo già immersi e non ce ne rendiamo completamente conto penso che la prima cosa sia conoscerla quindi non inizialmente io non ho fatto parte di quelle persone che dicevano ah sì vabbè ma poi non ci può fare niente no ho sempre pensato che bisognasse avere un'attenzione particolare perché abbiamo visto la tecnologia in questi anni che che cose incredibili il fatto stesso che siamo qui a parlare attraverso un computer adesso vi racconto un altro aneddoto io ho fatto tanti anni fa ma non troppi la pubblicità per Fastweb quando Fastweb ha creato la prima la prima possibilità di parlare al telefono guardandosi insomma l'ho detta male ma comunque erano le prime videochiamate attraverso questo gestore che era Fastweb e io mi ricordo che ero stata scelta come voce per fare lanciare questo prodotto nuovo e mi dicevo ma io non lo farei mai perché devo parlare con qualcuno e guardarlo contemporaneamente io non mi vorrei far vedere ti pare che uno ti chiami ma adesso è normalissimo normalissimo anzi no e quindi se penso a quello immagino che chissà dove andremo quindi la prima cosa è conoscerla conoscerla e capire come non essere schiacciati dalla tecnologia anzi come rimanere noi il punto di riferimento cioè essere noi che usiamo la tecnologia non la tecnologia cioè la grande sfida credo che sia questa di non farci schiacciare dalla tecnologia ma di usarla per per progredire per fare delle cose belle per fare delle cose che ci possano tornare utili per tanti aspetti la tecnologia rispetto alla voce è molto interessante per le persone che non riescono più a parlare che hanno delle difficoltà in quel senso è meraviglioso immaginare che uno possa ancora esprimersi attraverso la propria voce sintetizzata con le persone che ha intorno tutt'altro aspetto è che prendano la voce di un attore di un doppiatore e la usino per farci qualcosa di non autorizzato e purtroppo questo succede quindi va arginata però vediamo vediamo di capire come non farci schiacciare come come non essere sopraffatti ma usarla a nostro vantaggio potrebbe trasformarsi in un vantaggio potremmo lavorare in tutto il mondo essere tradotti in tutto il mondo non si sa quello che succederà però siamo molto vicini a pensare che sia possibile già quest'estate gli americani hanno fatto tutti gli scioperi per cercare di comprendere come lavorare nelle major con l'intelligenza artificiale e hanno firmato dei contratti nei quali gli attori hanno dato la disponibilità a utilizzare le loro voci in tutte le lingue quindi questo potrebbe essere l'inizio della fine del doppiato potrebbe essere anche se non sappiamo se poi questa cosa verrà veramente fatta se modificare il il labiale pronunciato in inglese e trasformato in italiano possa cambiare l'espressione del viso questo non lo so non sappiamo se i software riescono anche a mantenere l'espressione del viso immutata e non so quanto un attore sia disposto a farsi modificare l'espressione da un software spero di no ecco però staremo a vedere cosa succederà certo è che non bisogna dire non bisogna né demonizzarla né tenersi troppo a distanza perché è inevitabile che farà parte della nostra vita fa già parte della nostra vita è vero è vero io poi lo vediamo anche tutti i giorni nei social no chi fa applicazioni di video con i sottotitoli i sottotitoli vengono generati grazie all'intelligenza artificiale una volta c'erano i traduttori che facevano solo i sottotitoli esatto ma questo è un piccolo esempio abbiamo visto scene di Aldo Giovanni e Giacomo dove loro parlavano in inglese i loro spettacoli teatrali e questi sono fatti da persone che non ci capiscono niente cioè tipo io domani potrei andare su internet e far parlare straniero una scena di un film il che fa riflettere a livello basic che chiunque abbia accesso a questo con chat GPT io una volta mi ricordo delle traduzioni ti scerbellavi adesso vai chat GPT traducimi questa lettera dall'italiano all'inglese due secondi te la traduci in un inglese perfetto quindi se ti fa capire a che livello è arrivato per l'utente medio come noi figurati a livello professionale che progressi possa aver fatto sì 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 no ha fatto è una cosa perfetta però la cosa che mi domando è adesso l'intelligenza artificiale non fa che replicare quello che è già stato fatto quello che dovremmo ottenere noi dall'intelligenza artificiale farle fare qualcosa di ancora più cioè sarà una sfida per noi a diventare più creativi altrimenti non ha senso perché se replica quello che è già stato fatto non è interessante poi soprattutto nel campo artistico quello che quello che conta è l'innovazione qualcosa di diverso che ti fa che ti fa spalancare gli occhi che ti apre un po' la mente no accennavi tu al fatto prima io dovevo fare invece chiedo a chat GPT mi prepari questo e in due secondi ti restituisce quello che tu hai chiesto senza fare fatica però questo è soltanto l'inizio poi saremo noi a chiedere sempre di più all'intelligenza artificiale perché l'intelligenza artificiale diventerà uno strumento per andare altrove altrimenti l'umanità scompare a me sembra tanto un'involuzione cioè ci si attrofizzerà il cervello in un certo non dobbiamo correre questo rischio di farci schiacciare la sfida è proprio questa perché è difficile non farsi schiacciare però è quello che dobbiamo tentare di fare di essere più intelligenti avere noi un'intelligenza artistica è vero che non artificiale no però tutte Spanchi parlava di involuzione però in realtà tutti gli aspetti tecnologici hanno portato in sé delle involuzioni in qualcosa come dei grandissimi vantaggi in altri cioè la calcolatrice usando la calcolatrice abbiamo sempre fatto sempre meno affidamento sui calcoli mentali e quindi adesso magari siamo meno allenati sotto quell'aspetto il computer il fatto che abbiamo dei ricche non so una volta c'era la rubrica cartacea e molti numeri te li ricordavi a memoria le strade ti studiavi le mappe adesso io se dovessi andare a 5 km di distanza senza il satellitare sarei perso quindi tutte le scoperte tecnologiche hanno comportato un'involuzione in una capacità nella capacità nella quale ci vengono in soccorso perché è normale però sta secondo me nel controbilanciare cioè nel farci diventarci eccessivamente dipendenti il che non è sì poi dipende dipende allora nel lontano 2018 venne in Italia un signore che era diciamo abbastanza importante nel mondo dell'intelligenza artificiale che era Tim O'Brien un direttore generale della sezione di Microsoft che si occupa di intelligenza artificiale e lui fece un discorso molto molto semplice cioè semplice molto umano il che da un tecnico insomma non è proprio canonica come cosa e lui disse il vero punto non è come l'utente può utilizzare perché l'utente viene istruito in base a quello che tu gli dici che può fare cioè quando è uscito che ne so ok Google non lo faceva nessuno all'inizio perché no ma che è sta cosa è inutile dopo un anno due anni ti hanno talmente istruito bene a farlo con le pubblicità con gli aggiornamenti con le varie cose rendendoli sempre più carini sempre più degli oggettini interessanti da utilizzare che alla fine oggi è una delle funzionalità più utilizzate di un telefono statisticamente quindi lui diceva non è tanto lì il dubbio è a livello etico e sostanzialmente nel dubbio etico si dipende sempre da chi guida cioè da chi tiene il volante quindi se chi terrà il volante nel caso dell'intelligenza artificiale avrà un minimo di lungimiranza un minimo di lucidità mentale allora diciamo ci saranno delle restrizioni altrimenti è un po' difficile nel senso in America il blocco che hanno avuto l'hanno avuto perché stavano iniziando a utilizzarla per fare le intro delle serie tv per fare i copioni e le sceneggiature quindi avevano un po' esagerato e allora l'antitrust americana piuttosto che aziende insomma e i lavoratori del settore hanno protestato disney è una di quelle aziende che poco prima dello sciopero americano aveva aperto un'intera parte un'intera alla di disney che si occupava solo di questo l'antitrust cinematografica americana ha iniziato a fare dei controlli più specifici specifici scusatemi e gli ha detto guarda se vuoi evitare di avere problemi dal punto di vista dei controlli molto più rigidi su quello che viene fatto lascia stare e loro poi hanno lasciato stare per ora per ora con una bomba sul doppiaggio il discorso di replicare quello che è stato fatto è un discorso che viene fatto adesso a mo' di gioco cioè quello che c'è dietro non punta a replicare per esempio la tua voce Elisabetta ma punta a prendere dalla tua voce così come quella di tanti altri doppiatori a metterlo in un impasto gigante e tu domani potrai chiedere voglio una voce di una persona di questa fascia d'età che abbia questo timbro che abbia questa cosa che dice questa frase e l'intelligenza artificiale mettendo un po' insieme tutte le conoscenze acquisite le varie voci analizzate ti tira fuori quello che tu hai chiesto cioè questo è l'obiettivo non è il replicare quello che fate ma è proprio andare a generare delle voci su richiesta esattamente con le richieste precise questo è problematico di contrastarlo perché sarebbe un furto esatto infatti ci stiamo lavorando abbiamo creato una federazione internazionale che si chiama UVA non so se ne avete sentito parlare ed è stato molto emozionante perché tutte le nazioni l'Europa c'è tutta ma abbiamo l'America in Sudafrica l'India la Corea è pazzesco perché nel giro di pochissimi mesi c'è stato un tam tam di comunicazione per cui siamo riusciti a creare questa federazione per parlare di queste problematiche tutti insieme e ogni due settimane si fanno queste riunioni sulle piattaforme per capire come si stanno muovendo cosa sta succedendo e come fare per evitare quello che stai dicendo tu adesso che la tua voce non venga presa per nutrire una learning machine e andare a fare un piccolo ingrediente di una voce che verrà fuori e non sarà neanche riconosciuta ci stiamo lavorando molto seriamente su questo su questo io non sono tecnicamente minimamente informata non ho la competenza per per capire per rispondere a queste domande però sembra che sia possibile risalire al timbro di di ognuno cioè se se il mio timbro il tuo timbro il timbro di altre due persone viene miscelato si può capire da dove è venuta fuori questa miscela e creare qualcosa che la blocchi perché comunque è un furto sì quando si dice che la voce è un tratto identificativo delle persone è vero perché degli studi hanno dimostrato che attraverso ovviamente un'attenta analisi bisogna avere strumenti che lo facciano con solo l'orecchio è un po' difficile però con strumenti appositi che lo facciano è possibile da un da una traccia vocale identificare la persona ovviamente avendo anche l'apposita banca dati con tutte le persone insomma però è possibile farlo e niente io semplicemente volevo siccome stavo sentendo il discorso volevo portare l'informazione sul sul punto non vogliono prendere le vostre voci e replicarle vogliono prendere le vostre voci e generare delle nuove voci figlie è quello che vogliamo proprio contrastare tutte le nostre forze esatto eh sì quindi gli sforzi vanno in quella direzione esatto ed è giustissimo perché come nel fumetto anche il mefu nel fumetto ha fatto lo stesso ragionamento è giusto che venga regolamentata una parte che oggi è zona grigia e nelle zone grigie insomma nel settore dell'informatica vedendo un po' come funziona nelle zone grigie ci si sguazza e purtroppo non non c'è è a discapito poi di di chi lo subisce no in questo caso vostro cinque mesi fa del fumetto tre mesi fa degli animatori digitali insomma non è bello che avvenga questo ed è giusto che ogni ambito faccia quello che è nelle proprie forze per provare a regolamentare questa parte dell'intelligenza artificiale che è una tecnologia bellissima dal punto di vista proprio di studio tecnico è qualcosa di fenomenale ma altrettanto pericolosa bisogna limitarla c'è sfuggita di mano sì esatto esatto allora prima di passare alle domande della chat io mi prendo la mia domanda sul personaggio perché sennò la chat fa mille domande su mille personaggi invece mi prendo come al solito la mia su un personaggio a cui tengo molto e su una serie a cui tengo moltissimo perché mi ha accompagnato durante vari periodi belli brutti però era la vecchiaia ti ha accompagnato durante la tua bruttissima vecchiaia anche occhio che Rufio sta scappando che è How I Met Your Mother io sono innamorato di quella serie perché venivo da Will & Grace Will & Grace era una serie che io adoravo poi c'è stato un lasso di tempo dove mi hanno lasciato solo e poi finalmente è arrivata e alla fine arriva hai pianto quando sei rimasto solo senza Will & Grace ho pianto per diversi anni abbracciandomi anche le foto degli attori degli attrici insomma mi mancato e poi è arrivata A Met Your Mother è il personaggio di Lily è uno dei più amati dal pubblico quindi volevo chiederti un po' delle considerazioni se hai degli aneddoti se ti è piaciuta oppure se è stata una serie che ti ha accompagnato talmente tanto che alla fine hai detto oddio basta anche basta dicci un po' no 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 come è stato anzi ho pianto quando è finita la nuova serie per nove anni è stato bellissimo ogni stagione eravamo tutti non vedevamo l'ora che arrivasse la nuova serie con i nuovi episodi per poter vedere che diavolo si erano inventati perché la cosa stupenda è che la sceneggiatura degli episodi a volte è banalissima ma è come l'hanno resa c'è l'alchimia che c'era tra di loro l'intesa la simpatia e poi sono degli attori straordinari cioè capacità di far ridere con delle cavolate totali e con una leggerezza impagabili e quella è stata una serie che ho amato molto mi sono molto divertita ci siamo divertiti tanto a fare ho lavorato tanto insieme a Gianluca Iacono che faceva Marshall che era io fidanzato poi ci siamo anche sposati dei nove anni ne avete combinate di oggi là dentro è stato proprio bello e tante volte durante la lavorazione non riuscivamo ad andare avanti perché iniziavamo a ridere non riuscivamo a fare l'anello fino in fondo perché era troppo è una serie magica sì sì davvero mi è piaciuta inizialmente il cliente voleva mantenere la doppiatrice di Alison Eniga che era Miriam Catania soltanto che tutto il doppiaggio veniva fatto a Milano e lei è di Roma quindi veniva un po' complicato per per la casa di doppiaggio insomma per sdoppiare la situazione fare questa questa registrazione staccata dagli altri e quindi hanno cercato di infatti provini 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 su provini per cercare qualcuno che potesse andare bene e anche lì ho avuto la mia fortuna perché il direttore del doppiaggio non aveva minimamente pensato che potessi farla io credo che abbia provinato tutte le attrici di Milano e poi una mattina alle otto e mezza me lo ricordo perché ero già in macchina che andavo a un turno mi ha telefonato e mi ha detto senti non è che hai voglia di passare dieci minuti a fare un provino perché ho una cosa ma il cliente mi continua a montare indietro tutti i provini noi vorremmo tenerla a Milano ti va di passare e ho detto ok sì sì dovrei farcela a 12 e mezza passo e così ho fatto la sequenza dove lei fa esplodere la bottiglia di champagne dal frigorifero e vabbè facendo solo quella sequenzina lì ho detto vabbè ma che bella divertentissima diciamo che l'ho fatta era già più o meno giusto quello che facevo e qualche ora dopo mi ha telefonato per dirmi vabbè finalmente abbiamo trovato qualcuno che va bene al cliente e quindi ho vinto il provino e abbiamo iniziato subito a lavorare dopo pochi giorni è stato bellissimo cavolo non sono mai annullata di fare away matter anzi anzi quando è finita eravamo tutti in lutto ci credo ci credo che serie bellissima tra l'altro molto criticata per il finale ma a me il finale è piaciuto perché è un finale non scontato no perché si aspettavano il finale la storia d'amore che alla fine invece no è stato bello nella sua originalità nel suo improvviso sorprenderti e quindi ho apprezzato anche quello ma le scene allora io adoravo due cose Barney perché Barney è un capolavoro Barney veramente fa ridere appena lo guardi eccezionale eccezionale anche Marcellini e la dinamica Barney sono divertentissime perché fanno tutto quello che una coppia ha vergogna di chiarare però però lo facevano con così tanta semplicità e naturalezza che c'è Lili Lili è meravigliosa chiunque vorrebbe essere come Lili perché dice tutto quello che pensa è super spontanea è simpatica poi non è scontata per niente non è la classica bella ragazza super vincente ecco a me è piaciuto che spesso ho fatto questi personaggi non troppo sofisticati un po' un po' un po' sconclusionati però simpatici Aumento in Madre guarda ci tenevo particolarmente a farti complimenti perché oltre alla bravura degli attori originali anche a livello di voci siete stati straordinari secondo me ogni attore era perfetto sulla sua controparte fisica quindi grazie perfetta proprio quindi ho voluto cogliere la palla al balzo per farti personalmente i miei complimenti dici chi se ne frega però no guarda Lili non era facile da doppiare perché lei fa un sacco di facce molto espressiva per cui devi proprio seguire in tutti i respiri in tutti i movimenti all'interno di una battuta di quattro righe fa mille cose che poi passa dalle tonalità più basse a quelle più alte in un attimo in base anche a come si svolge la scena c'erano anche delle parti leggermente cantate Marshall sicuro le aveva non mi ricordo se ne aveva anche Lili no io credo di non aver fatto forse una volta ma cantavano tutti insieme no 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 io non io e mio marito siamo super fan così fan che al nostro matrimonio abbiamo nominato a mette your mother il nostro tavolo che bello che bello KX Neptune scrive io mi ci rivedo un sacco in Lili mi fa tenerezza bellissimo sì lei troppo carina Elisa Nanica no di accantare è già ogni finale dopo nove anni comunque sarebbe stato criticato cioè sfatiamo questo mito comunque è in linea comunque sì ma qualunque cosa avessero scritto non sarebbe piaciuto ai fan perché dopo nove anni non è che non ti piace il finale non ti piace il concetto che proprio finisca la serie capito ti potevano dal finale che desideravi non ti sarebbe piaciuto lo stesso è stato così con tutte le serie lunghe anzi almeno lì si sono limitati al finale su Scraps insomma un po' di più vabbè ma Scraps è finita con un finale meraviglioso dell'ottava stagione non esiste altro allora passiamo a qualche domanda della chat così l'ultima mezz'oretta la dedichiamo a voi origami all'alba ciao a tutti tanti complimenti ad Elisabetta per la sua straordinaria carriera vorrei chiederle se può raccontarci qualcosa del lavoro fatto sul personaggio di Sailor Moon altro personaggio super iconico è Sailor Moon eh sì cosa posso raccontare anche lì mi ricordo benissimo il giorno che ho fatto il provino anche se ormai sono passati tantissimi anni e mi ha colpito subito la particolarità del personaggio perché era molto diverso dalle solite dai soliti personaggi che ti trovavi a doppiare aveva questa particolarità di essere autoironica e e per cui mi ha mi ha colpita subito mi è piaciuta subito cioè si prendeva in giro non era tutta seria è imperfetta ha tutte le caratteristiche poi che tutte le adolescenti hanno no? e chi non si è sentito come lei che sbagli il vestito sbagli a parlare che ti emozioni troppo e si vede che che non ti svegli mai al mattino al momento giusto per andare a scuola sei sempre in ritardo non non hai fatto quello che dovevi fare e poi magicamente arrivano gli aiuti per uscire dai guai però tu malgrado perché non te ne rendi conto che ti arrivano questi aiuti poi scopri di avere dei poteri e non sai da dove ti arrivano dici ah io sono una paladina della giustica e poi dici come ho fatto a farlo per cui aveva tutta questa freschezza questa naturalezza molto bella da non era facile però molto affascinante da restituire e e quindi mi ha colpito già il provino poi ho anche vinto cosa devo dire meno male meno male per noi un sacco di colleghe bravissime io poi ho sempre avuto una qualità direi quando vado a fare i provini non penso mai a quello che succede succede non ci tengo particolarmente nel senso che vado un po' così senza troppe aspettative e tutte le volte che faccio le cose così poi sono premiato va bene quindi per cui lo do come consiglio ok spanchi premi appunti ma ok dato io in generale poi se vinceva il provino qualcun'altra ero contenta perché un sacco di volte poi l'hanno visto delle altre mie colleghe avevo una collega che adesso di cui non dirò il nome perché non è giusto ma è uno scherzo quando ci incrociavamo sulla davanti alla porta uscivo io entrava lei o viceversa lei mi guardava e mi dice se vinci anche questa volta giuro che ti è uscito poi lei è bravissima per cui ne ha vinti tanti 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 anche lei era un gioco io però ecco queste cose non le penso mai quando vince qualcuno sono felice ah vedi anche se è magari un ruolo a cui vieni particolarmente sì cioè se non ti scelgono perché non la dovresti fare tu vedi che filosofia zen questa dovremmo tutti molto meglio se ragionassimo così più sereni sì vero sono curioso sono curioso di capire chi si è no si dice è peccato e non è peccato no 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 non si dice non si dice ecco però è stato un aneddoto molto curioso quindi Sailor Moon ma ti è mai capitato di trovare perché questi sono prodotti che hanno un fandom e soprattutto all'epoca enorme ma poi chi se lo sarebbe immaginato perché io quando ho fatto il provino mai mi sarei immaginata poi tutto quello che è successo ma sapete che io sono anche stata ai tempi invitata da Fazio che allora faceva una trasmissione che si chiamava quelli che è il calcio ricordo come voce famosa perché doppiava c'era Genegnocchi anche se non sbaglio in quella trasmissione no c'era quelli oh no quello era il periodo dell'avventura però quello è Genegnocchi ah è vero c'erano due squadre si differente e quindi c'è mai stato magari un un fan un po' troppo pressante perché abbiamo sentito magari da ai tempi di Beverly Hills non so se vi ricordate Marco Guadagno riceva chiamate a casa dall'elenco telefonico perché erano di Brandon no assolutamente sono stati tutti bravi sono tutte per c'è ho delle persone anzi sono diventati amici molto discreti molto gentili tutti un fandom molto educato e gentile siamo contenti di sentire questo c'è un fan che sono sicura mi sta ascoltando ciao Lori che si addirittura ha fatto il tatuaggio con la mia firma oh wow che bello l'autografo in un inganno perché non avrei mai pensato che avrebbe fatto una follia del genere però dai che bello mi firmi questa cosa qui e poi si è fatto tatuare la mia firma si chiama dai o se ognuno le sue stranezze è un bel un bel una bella dimostrazione di affetto questa si chiama Lori è una persona fantastica veramente se ci sei palesati Lori adesso non so se tu ci stai seguendo se ci stai seguendo scrivilo però adesso devi chiedere quando mi incontrerai lo voglio anch'io il tatuaggio vicino a quello di Elisabetta è arrivato voce italiana di me stesso voce italiana di me stesso guarda anzi mi faccio la firma portatore del ciuffo ma perché ma perché mi sono scelto queste persone con cui collaborare Elisabetta per cosa ho fatto cosa mi ero fumato insomma insomma Andrea si spanchi un po' meno però ma come ti permetti quando ci si mette anche Andrea però come in questo caso ma io sono tornato illuminato da poco non hai visto che prima mi si è bruciata un'altra ring light abbiamo visto sì cos'era la ring light due me ne si sono bruciate due la ring light e quindi durante la live mi farei qualche domanda ricambiato due ring light cioè capito sì adesso sto con un'altra luce che ho preso fortunatamente cellulare cellulare con la torcia no no senza di loro il gruppo non sarebbe lo stesso guarda che carino felice nessuno è fantastico vabbè allora mister Lannister buonasera il grandissimo man ai ragazzi quindi una spanchi alla nostra graditissima ospite alla quale vorrei chiedere se può condividere con noi l'esperienza qualche aneddoto sul personaggio di Kiki in Dragon Ball la moglie di Goku Elisabetta la moglie di Goku attenzione non è una cosa da poco anche questo eh no potremmo definirla la first lady di Dragon Ball assolutamente sì possiamo dire la first lady degli anime proprio una matta ma veramente sì matta scatenata urla come una pazza leggermente nervosa la definirei nervosa però a che fa con Goku c'è sta che sia nervosa no poi col figlio sei anche tu così con i tuoi figli sei stata molto apprensiva in quel modo lì l'apprensiva lo sono stata però non così no fatemelo dire meno male perché insomma Kiki Kiki è divertente ma molto faticosa perché urla tantissimo per beccare tutte quelle boccacce che spalancava improvvisamente con gli occhi con le fiamme è carina è stato molto divertente anche quello è stato un personaggio che mi è stato affidato senza passare dal provino da Maurizio Torresan che non c'è più da tanti anni e mi sono sempre domandata perché mi avesse affidato un personaggio così nervoso io non so sono apparentemente tranquilla forse non sono apparentemente però è una matta ma perché devo andare a urlare così però ci sei perfetta quindi aveva ragione aveva ragione sì lui rideva tutte le volte che facevo Kiki rideva come un matto che bello si divertiva si aveva già inquadrata perché se non ha fatto il provino si vede che proprio pensava che eri perfetta per quel ruolo fortunatamente non voglio sapere indagare perché magari su quello però cavolo il risultato gli ha dato ragione assolutamente precisamente e qui è un personaggio adesso non è però è un personaggio inaspettatamente amato perché in un anime dove il protagonista cioè non è che ha il superpotere è proprio un super alieno che si trasforma dall'inizio si trasforma in una scimmia poi trasformazioni più umane però tutte fighe tutta gente pure i cattivi super fighe avere un personaggio umano che comunque è amato dalle persone dal pubblico di Dragon Ball è strano cioè nel senso fa strano è vero è vero fa strano però io devo ammettere che ho pensato più volte oddio che rompi palle chichi cioè guardando ah beh va beh si ma che si rompia e dice mazza ma basta ma calma è un teppista e si trasforma i capelli e trova un lavoro quel poraccio deve salvare il mondo se fa carico dalle spalle muore per sacrificare e lei che pensa si vabbè trova un lavoro porta i soldi a casa prendi la patente cioè basta io l'ho pensato guarda prendi la patente è una chicca veramente esatto prendi la patente però no va bene bel personaggio allora io andrei avanti e oddio non mi funziona più oggi ma si mi rifunzionano le cuffie con Felice che chiede hai dei ricordi del doppiaggio dell'attrice Catherine Sutherland nel ruolo della Pink Ranger Catherine Hillard l'ho detto bene? Pink Ranger quindi Power Ranger ah Power Rangers lo so gli scendio dei ricordi tutti i ruoli al top comunque Elisabetta lo dicevamo prima cosa? tutti i ruoli al top e tutti i ruoli insomma che hanno fatto un po' la storia e sono rimasti iconici e beh anche Power Rangers sono è stata una serie stranissima particolare e beh divertente singolare posso raccontarvi l'aneddoto di quando lavoravo con il Yellow Ranger che è la mia collega Cinzia Massironi che ha un'attitudine quando doppia ecco di lei ho detto il nome ma perché non mi insultava però cercava di uccidermi in sala passava proprio all'azione ma involontariamente perché lei quando doppia fa esattamente fisicamente tutto quello che fa il personaggio non so se avete presente tutti i movimenti che fanno Power Rangers se tu sei di fianco a lei ti rischi di di morire e vanno insieme ecco bisognava resistere a leggio facendo tutti i movimenti dei combattimenti della preparazione al combattimento senza essere accecati senza riportare traumi di vario genere andavi con la gomma piuma addosso di parmatura andavi con la gomma piuma addosso naturalmente ovviamente scherzi stupendo allora andiamo avanti con le domande cerco di farne una testa così cioè una testa domande differenti da persone differenti poi alcune non riusciremo a leggerle però ci ci lato nostro c'è la buona volontà questo è di fanpage buonasera team buonasera elisabetta benvenuta sul canale vorrei chiederti tra tutti i personaggi a cui hai dato la voce quale o quali senti più simili a te a livello caratteriale c'è un personaggio che ha detto cavolo però questo proprio mi rispecchia oppure no uff sai cos'è è un po' al contrario che a tutti i personaggi dai qualcosa che ti appartiene ok per cui cerchi di di dare qualcosa di tuo di mettere qualcosa di tuo in un lato del personaggio per cui ti risponderei un pochino in tutti perché quando affronti un lavoro di questo tipo che è un lavoro un po' per squilibrati mentali è un lavoro normale tu entri nel corpo di qualcun altro che sia un disegno animato che sia un essere umano non fai te stesso quindi è un po' strago e quindi devi trovare un modo per lasciare il tuo marchio la tua una tua caratteristica ecco ti risponderei così che cerchi di di affezione di di entrare e di e di fare tuo qualcosa che non ti appartiene che non hai creato tu ok il lavoro per squilibrati mentali mi ha sciso devastante però effettivamente se ci pensi non è la prima che ce lo dice che insomma devi essere molto molto incline alla cosa per fare questo lavoro ma perché poi è un lavoro che fai anche con una certa velocità passi da un personaggio all'altro non hai il tempo di studiarti il personaggio come se tu facessi un personaggio in una serie proprio recitandola oppure in teatro tu magari fai al mattino una cosa al pomeriggio ne fai un'altra la sera ne fai un'altra chiudi la porta della sala di registrazione sei davanti all'eggio col copione hai lo schermo davanti entri in un'altra dimensione lasci tutto quello che sei fuori anche per quello prima era difficile rispondere alla tua domanda dalla domanda iniziale ok chi sei non lo so è chiaro Salem the Black Cat buonasera è un grandissimo piacere poter arrivare in live Elisabetta una grandissima professionista ho visto che sono già stati menzionati tanti ruoli però vorrei chiederle in particolare dell'esperienza in Detective Conan anime che ho amato da morire dove ha dato la voce al personaggio di Kazua bello anche quello è un personaggio particolare molto molto umano come personaggio e poi la serie diretta da una direttrice del doppiaggio meravigliosa che è Loredana Nicosia con cui ho lavorato tantissimo ecco e con lei si va tanto in profondità per cui c'è proprio la soddisfazione di di lavorare dando lo spessore a tutte le emozioni è stato un bel personaggio Kazua è diverso da tutti gli altri non è proprio la classica eroina dei cartoni non è è una ragazza apparentemente normale no? sì cioè è molto umana ok sì è vero piccola parentesi con le registrazioni in studio non ci sarà più l'opportunità delle domande della chat però seguite i social di Man Under The Hood perché comunque in determinate circostanze vi verrà dato l'opportunità di porre ugualmente le domande agli ospiti tramite box domande di tutte quelle che arriveranno ne verranno selezionate due barra tre tra le più folli e originali quindi date spazio alla vostra fantasia primo secondo continuate a seguirci su tutti i social per poter continuare a porre le domande così come non proprio così come state facendo però per avere l'opportunità che la vostra venga comunque fatta vado avanti con Vale Love 2000 buonasera a tutto il team del Man vedi che carina lei ha espanso vorrevo chiedere Elisabetta se le è piaciuto doppiare la principessa Vivi in One Piece sì anche quello è un bel personaggio forse tornerà mi pare non so mi ha detto qualcosa del genere beh molto divertente anche lei era un po' particolare un po' strana principessa ribelle molto dire principessa ribelle adesso è scomparsa attualmente quindi la ritroveranno speriamo prima o poi quindi dovresti tornare però aveva un fascino tutto suo bella principessa sì scomparsa è morta spanchi non so non so spazza così si dice che non lo so magari il coach buonasera coach Lasso vorrei chiedere a Elisabetta della sua esperienza in un cartone accompagnato la mia infanzia ovvero pippi calze lunghe pippi calze lunghe col cavallo la cosa bello ma quanto è stato bello fare pippi calze lunghe questa è una grande soddisfazione ma chi non avrebbe voluto fare pippi calze lunghe tutte c'è ognuna di noi ha un po' pippi bellissima pippi calze lunghe è stata una soddisfazione incredibile anche lì sono andata al provino era luglio faceva caldo non avevo voglia perché proprio secondo turno per cui luna e mezza la macchina bollente trova parcheggio scendi fai sto provino e sapevo che la cliente avrebbe voluto mettere su pippi calze lunghe la voce di una persona famosissima di cui non paro ok secondo non il live per cui ero anche molto arrabbiata di andare a fare il provino perché tanto è un provino del tutto inutile lo fanno pro forma ma tanto sanno già che poi ci metteranno lei e e invece ho vinto io la ricetta perfetta quella che dicevamo prima per vincere i provini cioè coionati e non ci credere non ci credevo è stato fantastico bello poi anche lì abbiamo lavorato benissimo con Lisa Mazzotti bella pippi sì bello perché anche lì è strano perché pippi è una ragazzina quanti anni ha pippi calze lunghe dieci ha un'età indefinita per cui tu sei comunque già quasi una donna di trent'anni come potrebbe essere spanchi e devi trasformarti tornare piccola così almeno psicologicamente spanchi non c'è problema spanchi ha solo l'età anagrafica molto alta ma guarda che è stato un bambino non è vero non è vero uffa però è stata una grande soddisfazione un personaggio fantastico fantastico poi c'è stato anche hanno fatto anche credo un lungometraggio se non ricordo male dove lei cantava delle canzoni da musical difficilissime io non sono una cantante e anche lì sembrava che avrebbero preso una cantante poi per fare le parti cantate ma ho detto perché non devo cantare giusto giusto ci provo il fonico si era reso disponibile a darmi una mano mi ha detto sì dai facciamo le cose con calma piano piano ti porti le canzoni a casa te le studi e ho fatto anche quello grande giusto è un atteggiamento fantastico questo allora io andrei a leggere le ultime tre domande prendiamo tre poi come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine e quindi poi chiudiamo come chiudiamo sempre col video saluto e ci salutiamo a domani che purtroppo vi tocca spanchi quindi so che giornata è lutto settimanale per voi allora le ultime tre fammi le scegliamo le ultime tre che sono arrivate scegli bene le ultime tre che sono arrivate così prendiamo l'inizio e la fine c'è la chiusura del cerchio vado con ultima penultima terzo quindi l'ultima che è arrivata è di Xara3 che dice Elisabetta com'è stato lavorare al doppiaggio in Perfect Blue cuoricino tvb cuoricino carino allora Perfect Blue è stata una sorpresa ma avete visto che cosa incredibile che è andato al cinema qualche settimana scorsa due settimane fa io non me lo sarei mai immaginato perché è un film che io ho doppiato venticinque anni fa venticinque vi rendete conto di quanti anni sono eppure io mi ricordo benissimo la lavorazione di quel film anche lì non volevo andare al turno mi hanno affidato il personaggio senza fare nessun provino il direttore del doppiaggio aveva deciso che quella parte l'avrei dovuta fare io ma io avevo appena avuto il mio secondo figlio e era veramente piccolo piccolo quindi non non me la sentivo di andare a lavorare di stare lontana da lui allora avevo detto grazie ma non vengo dopo un po' mi ritelefonano mi dicono no guarda vorrebbero che lo facessi tu per favore vedrai è una cosa veloce veloce promettiamo ti facciamo finire presto vado e il copione era alto così e su tutte le pagine c'era la protagonista quindi vabbè insomma mentito spudoratamente mi ha mentito spudoratamente però lì poi io ero in ansia perché avevo lasciato figlio piccolino insomma facevo fatica a staccarmi e però mi sono ritrovata a dover fare un film molto impegnativo che non ovviamente non mi aspettavo una cosa del genere mi avevano appunto detto una cosa non troppo vera però lì ho detto vabbè ormai sono stata scelta devo farlo comunque nel modo migliore ed era complicato perché è tanto sfaccettato il personaggio ha dei dei momenti di di profondità estrema dei momenti di straniamento dei momenti in cui si vede dall'esterno quindi aveva tanti piani di lettura e e quindi dopo 25 anni sapere che ha avuto tutto quella quell'importanza mi ha riempita di di orgoglio di gratitudine eh per tornare al discorso che facevamo prima quanto sei grata tanto davvero tanto bello bellissimo anche lì diretta benissimo da Raffaele Farina straordinario che bravissimo direttore del doppiaggio che ringrazio per avermi scelto nonostante non fosse il momento più più facile per me ma mi ha dato fiducia lo stesso mi ha trascinata fuori ok allora Sailor Moon l'abbiamo già fatta oh vedi com'è stato il doppiaggio della principessa Aura nella serie Flash Gordon sai che non me lo ricordo tanto Flash Gordon non era quello sì sì Flash Gordon mi ricordo benissimo che facevo che facevo un personaggio ma non mi ricordo ma non c'è cioè non era un grosso non era principale io Flash Gordon c'ho presente solo lui cioè che era quello che non non so se però mi confondo col film o con la serie televisiva era lo stesso attore che faceva le due cose mi sembra di sì allora allora sì ho presente Flash Gordon ma anche io il personaggio della principessa Aura non lo ricordo molto bene vedi ma ci sta Elisabetta con tutti i ruoli e i personaggi che hai fatto anzi cioè io sono molto stupito della tua memoria e di quanto poi bene ti ricordi tutto quello di cui abbiamo parlato finora perché spanchi poi non si ricorderebbe niente ma state raggiungere una cosa invece che parlare sempre di me che invece si nota anzi da come ne parla oddio che è successo spa è da finita no comunque non è lo stesso perdonami non è lo stesso vedi allora io mi confondo la smetti di cacciarmi io c'ho presente solo quello del film allora anche io c'ho presente quello del film quello con i capelli bianchi pseudo bianchi adesso c'hai i capelli ok ok no no io c'ho presente il film allora dicevi spanchi posso dire senza che mi cacci se c'hai una connessione che non te te butta via che mi hai cacciato fuori come una bestia no volevo dire che anzi traspare tutta la passione e la professionalità in tutti questi racconti che ci fa di tutti questi ruoli anzi che se le è ricordati perché qui abbiamo parlato anche di cose vedi picalse lunghe datate quindi se non si ricorda un personaggio su 7 milioni e mezzo che ha fatto noi la perdoniamo e la cambiamo soprattutto quindi possiamo guarda Elisabetta non avrebbe dormito stanotte senza il tuo perdono quindi assolutamente ti ringrazio che l'hai detto grazie che l'intervento può stare serena e non pensarci più per il resto della sua vita grazie Spanchi che l'hai perdonata voi siete disattenti lei si è scusata e non doveva però dato che l'ha fatto cioè grazie comunque grazie per quello che mi hai detto per la passione dai sono felice se si vede anzi se mi permettete approfitto per certo approfittiamone a un workshop di doppiaggio e recitazione che faccio con un personaggio molto molto importante famoso che è Corrado Tedeschi anzi se lo volete intervistare sono sicura che gli farà piacere volentieri e facciamo questi laboratori di due giorni che sono molto belli sulla lavoriamo su delle sequenze cinematografiche ma prima le lavora lui dal punto di vista della recitazione poi andiamo a doppiarle dopo aver fatto l'esperienza fisicamente e sono due giorni belli che bella iniziativa è una bella iniziativa e quindi chi vuole come fa poi a chi deve contattare a Milano per adesso e mi scrive su Instagram ok ok perfetto quindi cogliete questa opportunità soprattutto se poi volete entrare entrare e perfezionarvi in questo mondo perché avete due eccellenze così come maestri non lasciatevela sfuggire Spanchi vai anche te a Milano perché dovresti a Milano come fai dovresti te ne avrei bisogno proprio più di tutti ma non è vero se proprio mi fai fare dei giorni vabbè ma per Spanchi non bastano due giorni cioè le devi prendere sei e mezzo a Milano tutti i giorni ma io sono quattro cinque anni che faccio robe e non si vede Spanchi anche voi tu non vieni mai a vedermi faccio robe e roba è l'ultimo spettacolo teatrale l'hanno messa in fondo al palco sulla destra e faceva l'albero non siete venuti a vedere la pianta però sono venuti un sacco di colleghi importanti chi chiede un sacco di colleghi anche sul palco sei stata utile come le mie due ringrazioni chiamarli colleghi ma non lo puoi sapere perché non c'eri è come se io come se io facessi partire i calcetti dico beh Cristiano Ronaldo è un mio collega cioè la stessa cosa basta ma no ho colleghi miei colleghi di Elisabetta amica miei ah ok allora mi permetterei mai allora così va bene quindi penultima domanda ehm lalà in magica d'oremi ah carina è una specie di trilli lalà bellissima divertente mi è molto piaciuto anche quella quella serie è stata diretta da Loredana da Loredana Nicosia eh abbiamo lavorato benissimo bella bella molto carina ok e l'ultima scegliamo questa che è particolare Elisabetta se potessi rubare tre oggetti o aspetti caratteriali a tre personaggi a cui hai dato la voce cosa sceglieresti quindi da ogni da tre personaggi devi rubare o tre oggetti o tre caratteristiche difficile vabbè i poteri magici di Sailor Moon di Bornei tutti i suoi del cristallo di luna per prima è difficile la capacità di fare come si chiamava quella serie curiosandone i cortili del cuore una roba del genere dove facevo questa Melissa se non sbaglio che era una stilista disegnava vestiti o sto facendo confusione tra due serie diverse guarda io non mi ricordo proprio i cortili del cuore ecco è giusto faceva quello no aspetta adesso vedo una cosa beh lo vedo già delle copertine che è una cosa di molta alta moda quindi sì sì credo che tu abbia ragione e e la sfida di Pippi Calzelunghe che per lei niente è impossibile io pensavo la calma di Kiki non lo so perché la calma la calma di Kiki va bene allora stoppa le domande alla chat e adesso Elisabetta quello che farò è prima di chiudere e salutarci metterti grande momento descrizione ti metto grande tolgo anche il nome ok noi siamo qui dietro se hai bisogno cambia anche scena loro ci seguono ci guardano in diretta io dirò 3 2 1 quando avvio la registrazione per noi tu parti con il saluto puoi insultarci puoi insultare spanchi puoi dire quello che vuoi in realtà e poi quando ti sento in silenzio 2 3 secondi rientro ok vado 3 2 1 quando vuoi ciao sono Elisabetta Spinelli e ringrazio questi meravigliosi ragazzi di The Man Under The Wood per avermi invitata un abbraccio a tutti che bello grazie 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 che bel saluto anche non te lo meritavi il saluto però ma che puoi non si meritava il meraviglioso spanchi però noi lo prendiamo volentieri fantastica strepitosa cuoricini grandi Elisabetta vedi quindi hanno apprezzato molto anche in chat io ovviamente vado a salutare tutti voi che ci avete seguito i miei colleghi di questa sera quindi Andrea Spanchi ma il grazie più grande va a Elisabetta Elisabetta è stata per noi una bellissima chiacchierata speriamo che ti sia trovato bene e di riaverti prima o poi magari in studio fisico quando passerai per Roma ma che meraviglia ma molto volentieri grazie mille grazie a te grazie a te è stato un onore davvero grazie amico grazie a te l'onore è stato nostro noi ovviamente vi diamo appuntamento a domani purtroppo e per un altro talks molto bello invece giovedì con Alessandra Cassioli che per chi non lo sapesse è la voce di Xina siateci ragazzi perché è introvabile anche lei quindi infanzia tra Xina Hercules Menelao tutti sapevo i personaggi tutti anche cose wheel hunting imperdibile imperdibile grazie mille ancora Elisabetta grazie mille a tutti voi e buonanotte ciao